Ciao a tutti, sono Michele Norcini e sono il titolare della IASBAT Software House, una software house di Porto Potenza Vicena. In questo periodo, come potete vedere, anche io sto lavorando da casa e sto tentando di rendermi utile, rendermi utile agli esercizi commerciali e alla comunità in cui vivo. Insieme al mio collega Unchiuli abbiamo pensato di lanciare un'applicazione che consente in maniera rapida, semplice e veloce alle singole attività commerciali di aprire online il proprio negozio. Da questo negozio online i clienti possono accedere facilmente e inserendo i propri dati possono effettuare l'ordine. I titolari delle attività riceveranno il proprio ordine e potranno gestirne lo status tenendo sempre informato il cliente dell'ordine che gli ha inviato. Questa soluzione è una soluzione, come dicevo, semplice e sarà una soluzione gratuita per la durata della quarantena, proprio per aiutare le attività in questo periodo perché soprattutto quelle attività che stanno convertendo i loro servizi in servizi di delivery appunto per far fronte a questa crisi. Ogni crisi porta con sé ovviamente sempre qualcosa di male ma porta con sé anche sempre una ventata di novità e forse questa è l'occasione per la mia terra, per le marche di aprirsi definitivamente al mondo dell'informatica, al mondo della tecnologia. Questo potrebbe essere un primo passo per aprirsi appunto al futuro tecnologico. Adesso vorrei farvi vedere come funziona l'applicazione ed effettuerò in maniera rapida un ordine dal sito web di un'azienda partner. Vediamo velocemente come si fa. Per effettuare un ordine è semplice. Basta andare sulla pagina Facebook o Instagram dell'attività dalla quale vogliamo effettuare l'ordine clicchiamo sul link che ci conduce all'online shop e una volta effettuato l'accesso posso scegliere quello che ordinare. Vedo l'offerta che mi viene proposta, scelgo ad esempio un box di sei confetture, completo i miei dati ed invio l'ordine. Una volta inviato l'ordine il titolare dell'attività verrà informato con una mail che un ordine è stato ricevuto e potrà gestirlo all'interno del proprio gestionale. Come vedete in questo caso il mio ordine è stato confermato e posso scegliere di confermare al cliente anche una data di prevista consegna, posso avvisarlo di quello che voglio. Gestendo gli ordini in maniera semplice il cliente verrà sempre informato e sarà soddisfatto una volta che l'ordine è consegnato. Contattami ed insieme creiamo il tuo online shop dalla quale i clienti potranno effettuare l'ordine.